Sì, tecnicamente è finita oggi, ovviamente formalmente finirà quando tutti i passaggi necessari attraverso anche i sindacati verranno realizzati, però tecnicamente da oggi la polis non è più un interlocutore dell'ASP1 di Teramo. Una polis che ha fatto un decreto ingiuntivo il mese scorso? Sì, la polis, meno male è arrivato questo decreto ingiuntivo, anche perché noi abbiamo evitato di rispondere sulle cifre, abbiamo sempre sostenuto che le cifre non erano quelle che venivano rivendicate pubblicamente, anche secondo me con una forma poco corretta, perché loro stessi nel decreto ingiuntivo, che ovviamente noi opporremo, affermano che il loro credito è di 6,2 milioni, non quindi 8,5, ma poi loro arrivano 8,5 perché ritengono di aver diritto a 2,3 milioni di interessi. Ovviamente ci tengo a sottolineare che noi non solo opporremo, ma noi abbiamo richiesto prima del decreto ingiuntivo delle somme indietro alla polis perché riteniamo noi, e poi saranno i giudici a stabilire chi avrà ragione, che sulle fatturazioni probabilmente ci possono essere dei servizi non erogati o dei servizi che sono stati pagati e non dovrebbero essere pagati, ma questa è un'altra partita che si vedrà in un'altra sede. Nel frattempo che gestisce le case di riposo? Nel frattempo è stato fatto un provvedimento d'urgenza da parte del RUP perché noi ovviamente non potevamo interrompere il servizio e è stato assegnato a un'azienda che è un racgruppamento di imprese che già ha rapporti con l'ASP, a Civitella, che rappresenta due aziende che sono la Mameri di Imperia e i Colori di Roseto. Però ripeto, questo è un affidamento di un mese perché partirà, come già previsto, da quattro mesi la Garaponte. Speriamo che entro novembre avremo il nuovo interlocutore. Nel frattempo sono un po' cambiati, e pare non per volontà dell'ASP, i rapporti con il Comune di Tera. Sono cambiati per una scelta del Comune, però io dico che la cosa pubblica andrebbe gestita in maniera diversa perché la cosa pubblica si chiama pubblica perché non è di chi c'è in quel momento, ma è della collettività. Rispetto al Comune, noi abbiamo ricevuto anche qui un decreto ingiuntivo purtroppo non opposto e quindi dovevamo pagare circa 200.000 euro per la tasse su rifiuti non pagata nel passato e a una nostra richiesta legittima di fare un piano di rientro dopo tre giorni c'è stato presentato un pignoramento presso terzi che ovviamente non è andato a un buon fine ma nella lettura delle carte ci ha permesso di diventare noi creditori nel Comune di Tera perché il Comune di Tera deve all'ASP circa 790.000 euro. Quindi se devo dare 200 e devo prendere 790 forse sono io che sono creditori nei confronti di qualcuno. C'è anche un discorso inerente delle opere d'arte? Sulle opere d'arte è iniziata un'interlocuzione da un anno e mezzo io nei miei compiti ho anche quella della ricognizione del patrimonio quindi in questo caso parliamo del patrimonio artistico di proprietà dell'ASP in un anno e mezzo nonostante abbiamo comunque cercato in tutti i modi di far capire che quelle opere vanno riconsegnate al legittimo proprietario che è l'ASP 1 che tra l'altro su quelle opere ha un progetto importante su Mociano a Villa Ventili tra l'altro sono opere ventili e tornerebbero a casa di ventili quindi mi sembra non ci siano dubbi ma il Comune ad oggi non ha mai risposto in maniera affermativa anzi forse qualcuno ritiene che probabilmente queste opere siano diventate proprie. Su questo aspetto anche qui dopo un anno e mezzo noi andremo avanti per quelle che sono le procedure previste. Lei ha anche criticato quella visita recente di Pepe e dei consiglieri regionali, Pepe Cavallari? Sì perché Pepe ha detto il contrario di quello di cui abbiamo parlato ossia ha affermato che la Regione tiene bloccato il piano di sanamento dell'ente perché non era tra i famosi 3 milioni e 9 perché non accredita i posti in realtà gli è stato detto in quella riunione che abbiamo avuto la promessa l'impegno dell'accreditamento dei famosi posti entro dicembre e che per quanto riguarda il finanziamento c'è arrivata la comunicazione ufficiale che il finanziamento è sbloccato. Ripeto, poi non solo aggiunto un'altra cosa e lì mi preoccupa perché lui afferma che il piano che è stato presentato al sottoscritto è lo stesso piano di due anni fa ma se è un piano di sanamento vuol dire che probabilmente abbiamo le idee chiare e lui dovrebbe solo dire se quel piano sta andando avanti non sta andando avanti è valido o non è valido non è che si cambi un piano ogni 3 secondi perché vuol dire che probabilmente un piano non ce l'hai forse è abituato a così qui noi ragioniamo in maniera diversa. Sulla questione dei debiti 12 milioni diciamo sì 12 milioni ha detto ne vedremo delle belle perché non è così non è quella cifra allora per assurdo noi abbiamo ricevuto ad oggi quindi rispetto a questi interlocutori che vanno a questi crediti dei decreti ingiuntivi che ci consentiranno alla fine di andare a recuperare delle somme rispetto a quei 12 milioni noi riteniamo che il famoso debito sarà molto di meno senza dover tirar fuori un euro riusciremo a tagliarlo anche sensibilmente non voglio dare percentuali però vi posso garantire che il modo di gestire del passato ovviamente oggi ci è utile per rivendicare questi diritti rispetto al debito che qualcuno vanda ai crediti che qualcuno vanda ma che in realtà non sono supportati poi dai documenti